Gli alimenti ultra raffinati, parlo dello zucchero soprattutto, fanno male a tutti. Però ci sono alcune persone che pur mangiando alimenti raffinati, zucchero, non ingrassano e altre persone che ingrassano più facilmente. Ma quelle che non ingrassano, che sono magre, sono magre magari fuori, ma dentro magari ingrassano. Perché quel grasso si deposita all'interno degli organi, soprattutto a livello del fegato, creando una steatosi epatica non alcolica. Quindi in sostanza noi siamo abituati a pensare le persone in sovrappeso, con sindrome metabolica, quindi che hanno una resistenza all'insulina, alla circonferenza vita ampia, l'ipertensione, come soggetti problematici. Ma in realtà anche il magro, che è grasso dentro, manifesta una serie di problemi. Se ci pensate a livello di patologie autoimmuni, patologie tumorali, di dismetabolismi, che sono dovuti proprio a questo grasso interno. Paradossalmente, voi, queste persone non riescono neanche più a mettere peso. E quando provano a mettere peso, cosa fanno? Beh, iniziano a mangiare, ad aumentare l'introduzione di dolci, dolciumi e alimenti con zuccheri raffinati. Questi alimenti tenderanno a peggiorare il loro problema, ma il loro problema di grasso interno e non di grasso esterno. Finti magri, li possiamo definire così. Poi non tutte le persone in sovrappeso o obese addirittura hanno problematiche metaboliche. Dipende sempre dalla distribuzione del grasso, perché se il grasso è ben distribuito in tutto il corpo, andranno ad avere meno problemi a livello metabolici. Quando invece chi è in sovrappeso o obeso ha anche un grasso interno, quelli sono pazienti complessi da trattare. Perché per prima cosa bisogna andare a ridurre, a far sciogliere quel grasso interno, per poi lavorare su quello esterno. Come si fa? Dobbiamo fare molto attenzione. Un ottimo approccio è la dieta antinfiammatoria. Perché è una dieta priva di cibi ultraraffinati, è una dieta ricca di polifenoli contenuti negli alimenti, che sono sostanze antiossidanti, antinfiammatorie, che riescono pian piano, pian piano, a ridurre questi accumuli di grasso intraorgano, che poi sono alla base di una serie di problematiche veramente enormi. Fammi sapere come ti senti, come stai, dove ti ritrovi, quindi nel magro fuori, grasso dentro, nel sovrappeso, ma anche collegato al grasso dentro, oppure un sovrappeso ben distribuito. Fammi sapere nei commenti, ma soprattutto metti un bel mi piace, condividi il video e iscriviti al canale per saperne sempre di più su questi argomenti. Ciao a tutti!